Come funziona? Perché è una struttura veramente incredibile. Il materiale della sua ex fidanzata per vendicarsi. Quindi ci tenevo veramente a ringraziare la polizia postale perché sono stati davvero disponibili e si sono mossi con un'accelerità che non è indifferente. E quindi... Sono venuto da te perché volevo dire una cosa che ho pensato, che stavo ragionando. Sapete quando si dice la beneficenza si fa ma non si dice, no? Vi faccio il classico esempio, no? Ecco, la verità è che noi, se un ragazzo che si chiama Klaus, che è uno youtuber molto bravo, non avesse pubblicato questa attività sui sui social, non ne sarebbero mai venuti a conoscenza. Io ho visto il suo post, ho contattato lui, ho contattato il comune, ci siamo messi in atto. Quindi è il momento di fare, far vedere e soprattutto creare partecipazione. Ha senso? Sì. Ok. Grazie a Klaus che ho conosciuto questa attività e quindi bravo. Se tu non avessi fatto il post, io non avrei mai saputo di questa cosa. Penso, non volevo neanche metterlo perché sembrava molto... Invece vedi cosa dice mia moglie, è il potere della condivisione. Vero.